ciao bambini oggi siamo tornati con la seconda puntata delle palline no cos'era bomba schiuma delle lol eccola qua è qui però no 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 adesso la apriamo la facciamo già vedere quanto fa in acqua la buttiamo in acqua? si allora la tiriamo su non fargli vedere che regalo c'è e come l'abbiamo fatta così non vedono oh che bella poi da qua si dovrebbe aprire bellissima bellissima oh si si abbiamo aperta vediamo se la nostra palla guardate è aperta questa è la nostra bomba d'acqua oh oh la immergiamo? dai vai wow guarda quanti brillantini che bella dai però è venuta bene bellissima era dura mi piace tanto 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 cosa c'è che galleggia? eh le pezzi di palla no? si è decise a metà guardate che abbiamo anche le lol che vogliono fare il bagno nelle palline le facciamo fare il bagno banina 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 buttiamo dentro uno due tre pow un'altra 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 due tre pow sono sporchie le lol oh oh lol 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 stanno notando non le vedo e sono dentro che qualcuno le salvi chi? ma qua c'è una lol grande lol mamma forse eccola cos'è? è la nostra sorpresa la nostra sorpresa eccola qua ora abbiamo recuperato cos'è una borsa? ah lol vi salverò io frizza frizza senti frizza 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 finita? è diventata azzurla guardate quanti brillantini questa è una borsa bomba quindi anche loro se la buttano al mare guarda ha affrezzato così tanto che si è ricoperto tutto il tavolo si ha fatto un cerchietto cerchietto azzurro guarda quanti brillantini è venuto molto carino guarda ne ho altri cuoricino guarda possiamo affrezzare un altro po' guarda possiamo affrezzare un altro po' cuoricino 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 non è che si è riuscita così stasera vuoi stasera? no no mi piacciono i cocktail che fanno pssshh 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 e in più qua abbiamo guarda mi sono fatta le unghie brillantinati ah che forte che figata iiii unghie brillantinati fai vedere in più ora abbiamo ad aprire il magico libro delle lol edizione 2018 voglio vedere cosa c'è di lui guardiamo e dopo passiamo anche una prova con le lol dopo dobbiamo fare una prova con le lol che abbiamo comprato non le lol originali intanto guardiamo qui guarda quasi tutta la collezione completa l'ital dove sono? sono più avanti guarda che bello guarda wow ci sono anche dialoghi tipo l'anzoletto dice sweet as candy dolce come la carmella wow che carina hot like a peper dice il diavoletto dice caldo come il peperoncino è pure le cornine lei eh guarda ci sono tutte oh c'è anche qui tipo qua ti chiede vediamo che lol sei no? vediamo le lezioni possono essere a volte divertenti sì o no mai? sì 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 io amo aiutare i miei amici sì o no? qualche volta qualche volta forse qualche volta amo provare un nuovo stile certo sì o no? sì ho dei sogni giornalieri sì o qualche volta? sì sì tu sei ci e ci vuol dire che sei tu sei un atletic club una ragazza atletica tu ami giocare a sport sì hai molta energia sì anzi hai un bagaglio di energia sì i tuoi amici amano la tua energia i miei amici amano la mia energia sì e poi tu puoi fare qualunque cosa in 5 minuti però amo me io sono a me piacciono le lezioni sì amici i miei amici sì amo le sfide? sì quindi io sono Spirit Club sono felice sono molto chiacchierona e ho degli amici che tutte le volte mi guardano per affrontare una nuova eventuale insieme e guarda c'è un sacco di altre cose però con i brillantini ho racconto io e tu parli io faccio te se tu parli con i brillantini sì perché sono molto belle perché sono molto belle guarda serie 1 serie 2 abbiamo tutte le lollo abbiamo tantissime pagine qui uh vip party puoi anche fare un invito speciale per chi? eh chi lo facciamo l'invito? lo facciamo a lisa? ah no vip party tu lisa tu sei invitato a un'esclusiva a un'esclusiva festa da? da chi? da noi si e da Rosy da noi si e da Rosy da noi si e da Rosy siete presso vabbè bla 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 presso casa esatto bla 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 vediamo uh poi ti segnalo anche come disegnare le lol ti segnalo ti segnalo basta basta per oggi basta cos'è? surprise story di cosa? devi completare tipo devo mettere io le parole? si e io dove le prendo? dalla tua testolina ma non ci sono disegnati sotto no queste sono altre cose e tu sei bisogno di aiuto c'è scritto usa immagini quante sono i giochini? tipo trova le parole quelle possiamo trovare qua ti dice che devi trovare glitter queen dai 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 uh sei sicura che non hai quella trovata? io la tu? io vedo la G la L vedo un'altra G vediamo prima bisogna cercare la G e qui bla 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 glitter queen non l'ho trovata brava poi qui c'è anche il cruciviero vado a fare? si poi ci sono un sacco di curiosità e un sacco di giochi però non me lo faccio vedere tutto 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 no perchè noi ora vogliamo giocare con le lol uh io non posso giocare io ho le mani tutte che bello ragazzi due minuti vai 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 così io prendo un'altra anzi visto che vai prendi quella sorpresa che abbiamo preparato vai Nassi Nassi si 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 ti mettevo tanto si è perchè io stavo cercando la lol guarda che bella guarda che bella guarda che stiamo portata guarda guarda ecco la lol confetti pop questa è la nostra sorpresa per voi che schifo l'abbiamo comprata questa da qui no? tutte diverse esatto più belle po' adesso colano avremo fare una all'ambiente glia è questa ma bevono l'acqua come normale si è sicuro a proposito te la ricordi lei? si ma questa è glitterata si ma guarda sono simili però anche come taglio di capelli come vestito infatti i capelli sono messi in modo uguale però che lei non ha una coroncina questo è quello suo vero vedete morbido questo è duro dura? non può bere non ha neanche il buco per la bocca cioè ce l'ha però è finta quindi questa non potrebbe spruzzare l'acqua ok e questa invece si guarda questa si poi ha bevuto poco quindi ora ha spruzzato poco però quando beve molta acqua poi lei abbiamo perso la scarpezza non so dove sia finita e lei invece vedi sono disegnate non sono vere non si possono ma se tornano? invece qua si può levare il vestito potremmo provare vediamo se cambia colore però non adesso come non adesso? e quando? quando lo facciamo? domani? bambini se volete che facciamo un vero confronto e che apriamo anche questa lol dovete seguirci mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale mi raccomando ciao bambini ciao 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 ciao